ciao a tutti sono qui per presentarvi la pagina dedicata al mio nuovo film prima del giorno dopo che giremo ad ischia fra settembre ed ottobre un progetto che segue il grande successo di offline e che come quello prosegue nel sulco dell'indipendente in un paese che non dà molto spazio il cinema indipendente che soprattutto come dire continua a raccontare spesso non sempre ma spesso quasi le stesse storie